esistono restauri impegnativi come questo che lo è lo sarà parecchio però però per una serie 5 touring e 34 con il doppio tettuccio aprivile devo stare attento a toccarla tra l'altro insomma con annesse le api anche queste realtà sono più vespe però 4.000 euro l'una e tutto insomma al suo senso anche perché questa è un una touring del 93 targhe provinciali naturalmente laser blau metallic come quella che avevamo che adesso vive a grosseto ed è una delle ultime ad avere ad avere il doppio rene giusto cioè quello stretto che è più bello rispetto all'altro allargato secondo il mio personale modesto per cui insomma questa è una bella macchina adesso è ferma da più di dieci anni più di dieci ci sarà da spendere sopra un po' però un abbinamento così nonostante non abbia gli interni in pelle che aveva l'altra eccetera però ha questo tettuccio che è stupendo per quanto delicatissimo e la plancia bicolore cioè meglio tono su tono grigio chiaro e nero quindi questa è una cosa che piace moltissimo moltissimo è uscito anche il fischio moltissimo quindi ce n'è qua ce n'è 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 giusto per far capire da quanto tempo si afferma qui si fa anche questa che si fa anche questa